fano grosseto svolta per una superstrada a quattro corsie lavori al teatro rossini a rischio gli eventi 2022 celebrazioni del 25 aprile con riflessioni alla guerra ucraina aperto al pubblico il bunker tedesco scoperto a montecchio nuovi programmi su rossini tv scopriamo pollicioni neri buonasera cari telespettatrici e cari telespettatori di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di martedì 26 aprile che apriamo parlando di infrastrutture questa volta non per parlare del tanto dibattuto tema dell'arretramento della ferrovia ma di un'incompiuta di lungo corso come l'affano grosseto e la sua galleria della guinza collegamenti che arrivano ad un punto di svolta come annunciato oggi dalla regione marche la giunta regionale aveva preannunciato l'odierna conferenza stampa come un punto di svolta l'incompiuta fanno grosseto con la sua galleria della guinza fa infatti un passo avanti deciso verso la canterizzazione di un progetto che abbandona l'iniziale idea del tracciato a due corsie per sposare la linea avallata dalla regione marche che porterà in tempi ancora tutti da definire ad una vera superstrada a quattro corsie che risponda alle carenze infrastrutturali di collegamento fra marche umbria e toscana con particolare riferimento al tracciato della provincia di pesaro urbino oggi si è raggiunto con la collaborazione tra regioni ministero anas e soprattutto la filiera tutta la filiera istituzionale un traguardo storico cioè il riconoscimento nel prossimo accordo di programma non del progetto ma della realizzazione della seconda canna della galleria della guinza che da una prospettiva a quel tratto della fanno grosseto ma quei territori in particolari molto positiva nel nostro nel breve tempo un breve tempo che chiaramente trattandosi di un'opera molto molto importante presuppone comunque una progettazione che dura mesi e anni e un cantiere che potrà vedere la luce appunto fra qualche anno ma parliamo di un'opera economicamente molto rilevante e che rappresenta uno snodo cruciale per la realizzazione del fanno grosseto perché questa opera da sola cuba qualche centinaio di milioni di investimento con la riapertura della prima galleria e la realizzazione della seconda ma anche Umbria e Toscana si collegano molto più velocemente poi chiaramente è un presupposto per vedere realizzata finalmente la fanno grosseto. Abbiamo ottenuto dicevamo la svolta proprio nel ragionamento di ANAS e del Ministero delle Infrastrutture. Prima l'arteria veniva progettata a due corsie non raddoppiabili. Oggi abbiamo ottenuto poco più di una settimana fa la progettazione della seconda canna della guinza che è fondamentale per questo rapporto con l'Umbria e con la Toscana ma abbiamo ottenuto anche una progettazione che tecnicamente non si dice più C1 quindi una strada che ha delle caratteristiche geometriche di larghezza di 10 metri 50 ma andiamo a progettare una B o quindi una superstrada che poi verrà realizzata a stralci lungo il percorso a secondo ovviamente delle risorse disponibili perché l'investimento è rilevante ma le marche hanno ottenuto finalmente il riconoscimento sul quale negli ultimi decenni o almeno nell'ultimo decennio non si era lavorato di ottenere una vera superstrada che colleghi il mare Adriatico al mar Tirreno tra Fano e Grosseto. E ancora problemi al Teatro Rossini di Pesaro che dopo prolungati mesi di cantieri rischia di non ospitare eventi nemmeno per tutto il 2022. Dopo i massicci lavori che hanno stravolto la Sala della Repubblica è infatti risultato che gli interventi effettuati comprensivi di alcune demolizioni hanno riguardato il 10% del volume del teatro. Un superamento che ha negato il certificato di rispondenza degli impianti richiedendo una nuova certificazione di conformità che debba riguardare tutto l'edificio. Si tratta di una ristrutturazione che lascia a presumere tempi lunghi e che portano a suggerire come anche quest'anno non si potrà svolgere né il Rossini Opera Festival né il Festival GAD nel principale teatro della città. Ed ora ci occupiamo delle celebrazioni avvenute ieri a Pesaro in commemorazione del 77esimo anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo con riflessioni parallele a quanto sta accadendo in Ucraina. Dalla deposizione delle corone dall'oro alla cappella di Sant'Ubaldo e al sacrario di Piazzale Collenuccio al momento del ricordo al monumento della Resistenza. Dopo due anni di cerimonie ristrette causa Covid, il 77esimo anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo amplia la partecipazione alle commemorazioni di peseresi al fianco di associazioni combattentistiche d'arma, ampi rappresentanti degli studenti e istituzioni cittadine. Autorità rappresentate a cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il cui intervento ha attualizzato il pensiero di liberazione e resistenza ai due mesi di conflitto bellico in Ucraina. È molto importante perché noi abbiamo vissuto questi 25 aprile come se la libertà e la democrazia fossero beni acquisiti per sempre. Invece questa guerra nel cuore dell'Europa ci dimostra che i valori della resistenza sono i valori di coloro che respingono l'invasore, di coloro che credono nella democrazia e nella sovranità dei popoli ed è quello che sta vivendo il popolo ucraino. Quindi è un modo per riaggiornare i valori della resistenza, al tempo stesso per decidere senza sei senza mai da che parte stare, dalla parte dell'Ucraina e dalla parte della pace. Una pace che adesso va raggiunta con responsabilità, con pragmatismo perché la pace va fatta in due. Putin non ha vinto la guerra come pensava, adesso non dobbiamo illuderci che la grande resistenza ucraina possa portare addirittura alla vittoria dell'Ucraina. Non è realisticamente possibile, occorre un accordo di pace partendo dal fatto che grazie alla resistenza ucraina si può finalmente ragionare di pace. Ce l'auguriamo tutti da questo 25 aprile e questo il grido che arriva, quello non soltanto di chi dice viva la resistenza ma di chi dice anche viva la pace e l'Europa lavora in particolar modo per questo. A prendere la parola al monumento alla resistenza anche Lampi attraverso il suo portavoce pesarese Francesco Delbianco all'indomani delle polemiche sull'associazione preseduta a livello nazionale da Gianfranco Pagliarulo al centro di dibattiti fra punti di vista diversi circa invio delle armi e riflessioni fra aggressori aggrediti nella guerra ucraina-russa. Si parla molto delle polemiche, personalmente io preferisco un'altra questione, è dibattito. Lampi è nata così, cioè come la resistenza italiana, tanta gente che viene da tante tradizioni diverse e finisce in un posto a parlare e a riflettere di temi di qualsiasi tipo. Un tema come la guerra in ucraina da adesso è allucinante. Divisivo? Anche. Ma la cosa importante, come ho anche detto oggi nel discorso, è parlarne. Nessuna la verità è in tasca e tutti noi siamo qui esclusivamente per trovare vie, strade. Io penso che sia stata molto cavalcata questa cosa della lotta interna. Non è una lotta, è il giusto senso del litigio. Il 25 aprile non è la festa in cui tutti quanti andiamo d'accordo, è la festa in cui litighiamo di gusto, perché sappiamo che abbiamo tutte posizioni diverse e ognuno ha un pezzo della verità. E quello che sta succedendo nell'ampi io penso che sia effettivamente questo. E a Montecchio i valori del 25 di aprile sono stati anticipati il 24 di aprile, aprendo al pubblico un luogo simbolo della seconda guerra mondiale come il bunker tedesco scoperto qualche mese fa. Un bunker che riesuma il passato ma che sa tanto di futuro. Dopo mesi di lavori e scavi a Montecchio di Vallefoglia è stato ufficialmente inaugurato il bunker tedesco risalente alla seconda guerra mondiale, accogliendo sin da domenica 24 aprile numerosi cittadini curiosi di quello che la storia può ancora offrire al territorio. Presenti numerose associazioni come quella dei reduci e combattenti di Montelabate rappresentata dal presidente Antonella Terenzi la quale è stata di grande aiuto nella scoperta di questo cimelio. Sono felicissima oggi di essere qua in questa bellissima giornata di pioggia ad aprire questo bellissimo bunker. Il primo bunker sulla linea gotica quota 90, un tragitto che faremo che porta quota 204. Questa è la prima postazione, poi passeremo chiaramente a quota 111 dove oggi ci sono le bandiere e che abbiamo recuperato tempo fa fino ad arrivare a quota 204. È un avvenimento bellissimo questo. Abbiamo lavorato come dei pazzi e abbiamo scavato come delle talpe, compreso i ragazzi che sono qui con me, Andrea che ha buttato giù la porta, ma nonché i miei prodi Bruno Livi e Lorenzo Tagliaferri. Sono dei grandi perché questa è la squadra. Chi ha permesso l'ingresso a questo bunker, oltre alle macchine della Mulazzani G&G e della Faircamp Costruzione, sono state le braccia. Lo terremo aperto nelle giornate che non vorrà, metteremo a disposizione i nostri numeri di cellulare perché la storia comincia da qui, la storia comincia da qui dentro. Qui dentro c'erano i tedeschi, sono stati annientati, prima di tutto dai montechiesi. La storia narra che un montechiese è riuscito con il suo temperamento a far fuori un tedesco, a cercarlo di mettere nella condizione di non nuocere perché poi il governo, l'esercito inglese potesse poi metterlo in stato di sicurezza. e poter poi continuare l'avanzata sulla linea gotica. Grande merito va dato sicuramente al fotografo Bruno Livi, vero scopritore di questo bunker, che per prima ha spulciato tra vecchi ricordi e racconti. Dopo un'oretta di ricerche l'ho trovato, ho telefonato a lei, che è andata dentro subito a vedere come era messo dentro, proprio in un buchino. Da quel giorno è stato tutto più bello, ci siamo impegnati tanto, però con soddisfazione. Una scoperta che ha visto il prezioso supporto in questi mesi da parte degli speleologi di Urbino e dell'archeologia militare CRB 360, che hanno effettuato ricerche, scavi, studi sulla storicità di questo bunker e compreso quali funzioni avesse. Questo è un bunker denominato VF. Questi bunker esistevano per dare supporto a postazioni di fuoco più importanti, cioè bunker ricovero dove il soldato, finito il turno di guardia, si andava a riposare. Si riposavano o qui oppure nelle case private dei contadini o della gente che abitava qui attorno. Quando non c'era necessità di stare nella fortificazione, nella trincea principale, poteva tenere dalle 4 alle 8 persone. Questo in particolare pensiamo 6. Ancora non siamo stati in grado di definire il modello preciso. Questo è un supporto, come ho detto, non è un bunker principale. I muri sono più piccoli, se vogliamo dire. Infatti è probabile che non sia neanche armato. Un ritrovamento importante che potrà diventare anche una meta turistica per il futuro. Diventa fruibile sia dal punto di vista storico e culturale, sia del messaggio contro le guerre. Per noi è importante, ci hanno lavorato in tanti, l'associazione Reddice combattenti, l'amministrazione comunale, le imprese private, tanti volontari. Quindi è un fatto importante. Stiamo lavorando insieme alla provincia e gli altri comuni per fare un percorso di tutti i bunker della linea gotica e quindi speriamo, quanto prima, di poter dar seguito a questa inaugurazione di oggi. E dopo l'apertura del bunker, l'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e il Comune di Montelabate hanno celebrato ieri, il 25 di aprile, al cimitero dei caduti di Montecchio, dove riposano ben 582 caduti alleati. Presenti le principali autorità amministrative dell'Unione, accompagnate dal picchetto d'onore del 28esimo reggimento Pavia, dai corpi bandistici Giovanni Santi di Vallefoglie e Gioacchino Rossini di Montelabate, nonché dall'esebizione dei cantori della Città Futura e dalla Danza della Pace, eseguita dal Corpo di Ballo Center Stage Danza Pesaro. E a precedere le celebrazioni di Montecchio, sabato 23 aprile a Tavuglia, tante persone hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta al Monumento dei Caduti Canadesi sulla linea gotica inaugurato nel 1997. L'orchestra incontro, composta dai ragazzi delle scuole medie di Pian del Bruscolo, ha fornito l'accompagnamento musicale a tutto l'evento, chiudendo con l'esecuzione dell'inno dell'Unione Pian del Bruscolo. Valori del 25 aprile, sottolineati nell'occasione dalla vice sindaca di Tavuglia Laura Macchini, dal sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli, dal consigliere comunale di Pesaro Luca Di Dario, dall'assessore di Gabicce Rossana Biagioni, dal responsabile ampi Tavuglia Maurizio Rossi e dalla presidente provinciale dell'associazione combattenti e reduci Antonella Terenzi. E la CGL di Pesaro Urbino ha invece commemorato ieri i partigiani caduti nella battaglia di Parchiule, l'ultima battaglia partigiana per la liberazione della provincia prima dello sfondamento della linea gotica. Celebrazione del 25 aprile che si è svolta al monumento che sorge ai piedi dell'Alpe della Luna. E dopo la nomina dell'ex sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti alla presidenza di Marche Multiservizi, anche Margherita Pedinelli da oggi entra nel consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi. L'ex sindaca di San Costanzo è stata nominata questa mattina dai piccoli comuni durante l'assemblea ordinaria dei soci. E dal 28 al 30 aprile nel centro Arti Visive Pescheria avrà luogo la prima edizione del Rossini Jazz Festival, coordinato dalla scuola di jazz nel Conservatorio Rossini. Il festival nasce con l'intento di creare un luogo di incontro tra docenti e studenti in cui non solo confrontarsi reciprocamente ma offrirà al pubblico la possibilità di conoscere un'altra voce, quella del jazz che da tempo risuona nel Conservatorio Rossini. E domenica a primo maggio Rossini TV trasmetterà in diretta alle ore 16.30 la Santa Messa di insediamento di Monsignor Sandro Salvucci a nuovo Vescovo di Pesaro. Così come sabato scorso Rossini TV ha trasmesso l'ultima funzione ufficiata da Monsignor Piero Coccia. Ascoltiamo ora le parole di saluto e di congedo di Coccia dopo 18 anni a Pesaro. Dopo 18 anni si chiude il Ministero Religioso di Monsignor Piero Coccia d'Arcivescovo Metropolita di Pesaro. Domenica a primo maggio alle 16.30 il Duomo ospiterà la Santa Messa di insediamento del successore Sandro Salvucci. Quella stessa cattedrale che sabato ha ufficiato invece l'ultima funzione a Pesaro di Monsignor Piero Coccia che dall'altare ha analizzato il suo prolungato ruolo nella comunità. Ripenso ai miei 18 anni che ho trascorso tra di voi. Registro in me tante manchevolezze, insufficienze, limiti. Tuttavia posso dire, e lo dico con tanta sincerità, che il mio impegno di pastore è stato sempre totale. Non mi sono mai lasciato prendere da calcoli, da carrierismi, dall'ossessione del consenso e dalla voglia smaniose di apparire. Non sono stato a prua della nave a svendolare la bandiera, ma ho preferito stare nella stiva per far funzionare al meglio il motore e mandare avanti un'imbarcazione anche in acque tempestose. Un'analisi su se stesso alternata ad un'analisi sociale e culturale. I miei 18 anni trascorsi a Pesaro sono passati velocemente e sono stati segnati profondamente dall'esperienza di un trapasso culturale, trapasso anche sociale e trapasso ecclesiale. A margine della funzione, Coccia ha così ringraziato la comunità che lo ha ospitato per 18 anni. Rivolgo un caro saluto al termine dei miei 18 anni passati a Pesaro come arcivisco e ringrazio tutta la comunità per l'affetto con cui mi ha circondato e anche per la collaborazione che mi è stata data. Sono grato a tutti e dico anche proseguiamo questo cammino, lo proseguiamo nel segno della fede e anche con la guida del nuovo arcivisco Sandro Salvucci, persona che certamente è all'altezza del compito e che viene in questa città con tanto entusiasmo e anche con prospettive future. Grazie a tutti. Al microfono del Duomo anche il sindaco Ricci per portare il ringraziamento della città al suo arcivescovo. Davvero grazie perché anche tutta la comunità laica, tutta la cittadinanza, non soltanto coloro che l'hanno apprezzata nella sua attività religiosa così caparbia, anche nel cercare di riorganizzare la chiesa pesarese, in una fase non facile anche per la chiesa dal punto di vista organizzativo. Quindi davvero grazie da parte dei credenti, grazie da parte dei non credenti, grazie da parte di coloro che hanno avuto l'onore e la fortuna di avere un grande vescovo come lei. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto e ovviamente non perdiamoci di vista. E sono 170 pesaresi armati di senso civico, i volentieri volontari che da oltre dieci anni si rimboccano le maniche per opere di pulizia e decoro cittadino e che sabato hanno aggiunto un altro capitolo della loro azione ripulendo le vie del centro storico e del porto. Vediamo. Sabato hanno ripulito parchi e vie del porto e del centro storico. Sono i volentieri volontari, cittadini che si rimboccano le maniche per senso civico e decoro cittadino e che in dieci anni dalla partenza del progetto hanno coinvolto 170 pesaresi. Un progetto educativo e sociale coordinato dall'Hauser provinciale che si dirama nei consigli di quartiere e nello specifico dell'ultima iniziativa quelli di centro storico, porto e mare. Questo progetto sta coinvolgendo tutti i quartieri della città di Pesaro è un progetto sia di manutenzione ma soprattutto di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica. Quindi come abbiamo visto stamattina che abbiamo coinvolto i due quartieri gli ultimi arrivati, il quartiere 1 centro e il quartiere 11 porto i cittadini questa mattina hanno collaborato e sono attivati per la pulizia dell'area del porto e della pulizia dell'area della biblioteca San Giovanni e tutte le vie limitrofe. È stato un momento di condivisione, di partecipazione ma anche di risultati utili alla collettività perché sono state ripulite tutte le vie, sono state ripulite le aree limitrofe ai marchi quindi abbiamo unito tutti al direttevole ma soprattutto un messaggio di sensibilizzazione per i cittadini che è l'area pubblica di tutti e aspetta a tutti mantenerla e tenerla curata. L'esempio che viene dato da questi volontari è veramente un esempio importante al di là del fatto del risultato stesso che questa mattina abbiamo sistemato il partito davanti alla Capitineria di Porto, al di là del risultato in sé è proprio l'esempio che noi riusciamo in questa maniera a dare ai più giovani e diciamo alle tutte le generazioni. E domani 27 aprile il Teatro Sperimentale di Pesaro alzerà il sipario sul concerto per la pace ospitando il direttore dell'orchestra filarmonica di Kharkiv martoriata dalla guerra ucraina. Il concerto per la pace è dedicato all'Ucraina, al conflitto in corso e vede la presenza di Yuri Janko che è il direttore e l'amministratore della filarmonica di Kharkiv e l'orchestra olimpia ha raccolto un appello di un network internazionale di artisti che era a lui dedicato, poiché fuggendo da Kharkiv ha perso la casa, il lavoro e la sua orchestra. Per questo motivo lo accogliamo qui a Pesaro e gli diamo un'orchestra. L'appello consisteva proprio nel aiutare concretamente i musicisti dandogli quello che è il loro lavoro, dandogli la possibilità di continuare ad andare avanti. Questa è anche un'occasione per mettere insieme le studentesse russe e ucraine del Conservatorio di Pesaro che si uniranno all'orchestra olimpia e con questo piccolo gesto noi vogliamo in qualche modo riconoscere la loro professionalità e lanciare un segno appunto di unione e per la pace. Tutto questo ovviamente sotto la direzione di un grande maestro che per la prima volta tra l'altro viene a Pesaro quindi questo è un ulteriore motivo di orgoglio per noi. L'appuntamento, ripetiamo, è il 27 aprile alle 21 al Teatro Sperimentale. L'ingresso sarà devoluto sotto forma di aiuti umanitari e sotto forma di borse di studio dedicate alle studentesse del Conservatorio di Pesaro che in questo momento si trovano in difficoltà economica studentesse ucraine. e quindi è importante partecipare per dare il nostro contributo attraverso la musica per un sollievo materiale e reale. E dalle mesi di maggio partiranno nuovi programmi su Rossini TV. Come abbiamo già illustrato la settimana scorsa con il programma che partirà il 2 maggio ovvero Tazze di Tè oggi andiamo alla scoperta di Pollicioni Neri che partirà su Rossini TV da martedì 3 maggio. Vediamo. Dal 3 di maggio mette le radici su Rossini TV il nuovo programma Pollicioni Neri un geniale tutorial dedicato al giardinaggio con consigli utili per curare le piante in casa. Un'idea nata da Andrea Stella, giardiniere di mestiere che dalle lockdown del 2020 ha deciso di sbarcare su YouTube e ogni martedì e ogni giovedì alle ore 13.45.20.15 anche sul canale 80. Quando eravamo chiusi in casa i clienti mi chiamavano per chiedermi consigli su quello che dovevano fare nel giardino come accendere l'acqua come seminare un prato che concime dare che seme usare come potare una siepe mi hanno chiesto tante piccole cose che essendo chiusi in casa non potendo fare niente mi è venuto un po' vedendo anche su internet che era già iniziato anche questa mania diciamo di fare i tutorial quelle cose lì per qualsiasi lavoro per qualsiasi cosa da fare ho preso la palla al banzo e ho conosciuto i ragazzi che poi mi seguono puoi vedere come prenderti cura di un prato come prenderti cura di una determinata pianta che concime usare quando potare determinate piante ci abbiamo fatto anche il calendario annuale dove mese per mese spieghiamo le lavorazioni sui agrumi, gli alberi da frutto sulle piante in vaso sul prato stesso mese per mese che concimi usare che lavorassimo farci sopra quant'acqua dare mi è cercato di dare un po' le nozioni principali per cui uno anche meno esperto possa prendersi cura comunque della sua pianta o del suo giardino un secondo lavoro che è continuato anche quando il lockdown è finito ci sono tante cose che ti mettono alla prova che ti fanno anche crescere io la prendo un po' più come sfida che come mi sfida a crescere a diventare una persona diversa a migliorarmi poi lo faccio anche in previsione di un futuro perché comunque il mio lavoro è un lavoro pesante adesso sono 35 anni quando ne avrò 45-50 sarò in grado ancora di tenere questi ritmi fare questo lavoro mi piacerebbe magari traslarlo in un'altra cosa che piano piano anche con questo tutorial o queste cose magari può nascere un lavoro diverso qualcos'altro e con questo è tutto prima però di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di serata infatti questa sera alle ore 19 ci sarà pesce azzurro quiz show con poi repliche alle ore 22-30 e poi nei prossimi giorni e poi a seguire ci sarà sempre stasera alle ore 21-20 la tv dei viaggi Marsiglia e Provenza e Crociera in Spagna a seguire alle ore 23 ci sarà l'ottava giornata di ritorno di Serie A dove vedrà da una parte la Fiorini Rugby Pesaro ospitare il CUS Perugia e poi passiamo agli appuntamenti dei prossimi giorni domenica 1 maggio infatti alle ore 16-30 verrà trasmessa in diretta la Santa Messa di Consacrazione Episcopale e inizio Ministero di Monsignor Sandro Salvucci Messa che potrete seguire in diretta anche sulla pagina Facebook di Rossini TV e poi dal 3 maggio partirà la nuova edizione di Quala Zampa tutti martedì alle ore 21-20 il format che nella scorsa stagione ha riscosso tantissimo successo e con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 80